Allora vi ho detto che anche se non vi ho raccontato nell'ambito della puntata di oggi di notizie diciamo puntuali delle ultime 24 ore provenienti dall'Ucraina in generale dalla guerra in Ucraina in realtà l'argomento sarebbe arrivato anche se continuiamo comunque a non raccontare esattamente quello che sta succedendo sul campo ma qualcosa che è molto lontano dal campo ed è anche molto lontano dal faro delle notizie infatti sono molto contento di poter recuperare questo argomento che altrimenti sarebbe completamente ignorato vi ricordo che siete all'ascolto magari anche la visione di Play, trasmissione di informazione mattutina qui su RBE Radio e TV perché qualche tempo fa ci è arrivato una comunicazione da parte di Un Ponte Per un'organizzazione che abbiamo già avuto modo di interpellare in passato rispetto ad una situazione quella di disertori o meglio obiettori di coscienza bielorussi in paesi che insomma teoricamente dovrebbero da un punto di vista di logica molto stringente dovrebbero essere molto contenti a cogliere a braccia aperte chi rifiuta di combattere questa guerra in quanto paesi alleati dell'Ucraina e invece le cose non vanno esattamente così allora ne vogliamo parlare con la direttrice di Un Ponte Per, Martina Pignatti intanto ciao, grazie di essere qui con noi buongiorno, buongiorno a tutti allora l'argomento è chiaramente un po' delicato c'è insomma negli ultimi mesi l'argomento più politicamente divisivo è diventata la situazione di Israele e Palestina ma insomma non è che la guerra in Ucraina sia un argomento ancora così facile e come dire lontano da polemiche e quindi questo elemento è complesso da affrontare si parla di Lituania geograficamente e ti chiederei un po' di farci il quadro di qual è questa situazione che come ci dicevamo fuori onda direi che è totalmente ignorata da qualunque media infatti grazie per concederci di parlarne perché ultimamente anche sui media si parla poco di proposte di pace per lo scenario appunto europeo adesso si accennava una proposta di pace tedesca che potrebbe avere riscuotere qualche interesse ma non c'è la voce di chi dal terreno nell'est Europa, in Ucraina, in Russia protesta attivamente dentro i propri paesi contro la guerra in particolare la Bielorussia in questo quadro è un paese chiave ovviamente sapete che il premier è un alleato di Putin ma c'è una società civile molto vibrante in Bielorussia che si oppone alla guerra e alla militarizzazione della Bielorussia abbiamo sentito sulle news alcuni giorni fa una polemica un grosso conflitto tra l'Unione Europea e in questo caso l'Ungheria sul sistema dei visti per i russi quindi Budapest aveva deciso di estendere la procedura dei visti brevi per il lavoro anche a russi e belorussi la commissaria europea per gli affari interni ha inviato una lettera molto preoccupata chiedendo spiegazioni ecco ma l'Unione Europea non ha mai chiesto chiaramente alla Lituania che è un paese membro circa il trattamento di attivisti pacifisti obiettori di coscienza bielorussi che chiedono asilo politico in Lituania e che invece vengono accusati di essere una minaccia per la sicurezza nazionale questo è un caso di cui vogliamo parlare perché ci è arrivata una richiesta di aiuto di visibilità da Olga Karas che è un'attivista che è stata disegnata da Amnesty come alcuni anni fa la principale difensora dei diritti umani della Bielorussia che è stata candidata al premio Nobel per la pace è molto famosa come persona che si espone e parla con coraggio della necessità di deporre le armi sostenere la diplomazia, il dialogo e dare voce a tutti i cittadini che nell'area non vogliono combattere e non vogliono la guerra ha messo in piedi un'organizzazione che si chiama Our House che è stata lanciata soprattutto da donne pacifiste bielorusse che volevano sostenere gli obiettori di coscienza e i disertori dall'esercito dicendo appunto qui c'è una retorica anche molto maschile maschilista sulla l'importanza del combattere per la patria ecco noi invece da donne vogliamo dire agli uomini noi vi vogliamo pacifisti, vi vogliamo disertori e hanno sostenuto migliaia di persone che hanno in questa scelta di rifiutare di combattere purtroppo il governo lituano ha minacciato queste persone le ha perseguitate e la stessa Olga è stata recentemente contannata in contumacia da un tribunale bielorussio perché lei appunto è scappata 12 anni di carcere e pagamento di una multa di 170 mila euro semplicemente per aver parlato di pace e della possibilità di essere dissidenti rispetto al governo bielorusso allora cosa succede a chi scappa in Lituania? i bielorussi non sono ben accolti quindi il dato è che le persone sono poi processate spesso inserite addirittura nei database europei delle persone che minacciano la sicurezza con un diveto di ingresso nell'UE da 3 a 5 anni diceva Olga il caso in cui un investigatore anticorruzione è stato inserito in queste liste a vita c'è per sempre e come un ponte pere appunto insieme a Our House abbiamo letto i dati del 2023 in un anno 1644 cittadini bielorussi e 300 cittadini russi sono stati riconosciuti appunto come una minaccia per la sicurezza nazionale tra loro figurano moltissimi attivisti antinucleari ricercatori bielorussi che indagavano su schemi di corruzione bielorussi lituani, attivisti bielorussi per i diritti umani obiettori di coscienza, disertori sul sito dell'organizzazione Our House se volete andare a cercarlo trovate, troverete anche le loro storie sono storie di grande coraggio di cui appunto nessuno parla e quindi è molto importante che questa radio abbia deciso di dare loro voce perché loro attivamente cercano di smuovere l'opinione pubblica smuovere gli elettori in questi paesi questo punta non è comprensibile come mai la Lituania si ostini a non dare voce e ospitalità e asilo politico a queste persone Sì esatto, da un punto di vista anche molto cinico insomma se si vede effettivamente la Bielorussia come un nemico in toto chi si espone contro il regime dovrebbe teoricamente essere un alleato anche se chiaramente stiamo raccontando la questione in maniera un po' grezza in questi termini nel rapporto di monitoraggio che appunto è stato realizzato dalla nostra casa che ci avete inviato si parla di discriminazione della minoranza etnica Bielorussia che mi fa venire il sospetto che la questione della guerra in Ucraina non sia tutta quanta la storia e che ci sia anche proprio una questione non so se si possa parlare esattamente di razzismo però appunto di ostilità generica nei confronti di chi arriva dalla Bielorussia non so se è questo un po' il punto Sì c'è un discorso dell'odio quindi anche nelle scuole contro i bambini quindi c'è paura diffusa nella società anche di pestaggi e di attacchi fisici contro le persone purtroppo c'è una necessità di rivedere un po' anche la geometria delle relazioni tra le popolazioni dell'Europa dell'Est e sì purtroppo il razzismo e l'intolleranza hanno delle geometrie come anche il sentimento anticoloniale che noi rimandiamo sempre al colonialismo inglese, italiano invece c'è anche un colonialismo sovietico che poi in realtà in questi paesi produce un'ondata di intolleranza contro la letteratura russa contro che però per loro è inquadrata appunto in una ottica anticolonialista ed sono temi che vanno necessariamente studiati anche ricondotti alle radici storiche per comprendere il presente proprio per questo l'alleanza tra società civili di questi paesi è invece fondamentale per scardinare questa retorica questi pregiudizi e far sì che ci sia una sorta di processo di diplomazia dal basso come quello che poteva essere estericamente il tentativo del processo di Helsinki per lavorare sui processi di pace proprio per questo che noi come un ponte per abbiamo voluto sostenere le associazioni pacifiste degli obiettori di coscienza russi, bielorussi, lituani e ovviamente ucraini che con grande difficoltà continuano a lavorare per dare voce a chi vuole obiettare alla guerra chiaro un po' superare quella retorica che insomma è quella che un po' ci impedisce di superare questa situazione la retorica del noi e loro insomma dividere con un muro il confine di qua il confine di là e immaginare come la bielorussia come una cosa unica la russia come una cosa unica la ocania come una cosa unica eccetera eccetera la domanda che sorge un po' spontanea a questo punto è noi adesso insomma adesso che lo sappiamo da che cosa partiamo anche solo dal punto di vista dell'informazione dello stare dietro alle notizie come possiamo appunto restare informati comunque io consiglio sempre di andare poi a cercare direttamente le fonti quindi anche su internet questa storia viene raccontata con i report e con le storie su proprio il sito di Our House quindi se voi digitate nei motori di ricerca Our House International Center for Civil Initiatives trovate il loro sito sul sito di Un Ponte Pere occasionalmente noi pubblichiamo aggiornamenti abbiamo una pagina se andate sul sito di Un Ponte Pere poi cercate Ucraina Costruttori di Pace dalla quale potete accedere a informazioni e anche donare in generale se voi fate una donazione generica a un Ponte Pere oppure donate per l'Ucraina i fondi diciamo dedicati all'Ucraina noi li utilizziamo anche per il sostegno agli obiettori di coscienza che in tutta l'area stanno cercando di disinnescare l'attacco militare all'Ucraina quindi ecco con questa causale voi tramite un Ponte Pere potete tornare anche per le spese legali di Olga Caracce e dei pacifisti belorussi in questo momento che si trovano intrappolati in Lituania e non possono tornare in Bielorussia perché purtroppo li potrebbero essere soggetti anche alla pena di morte soprattutto se disertori chiaro quindi una situazione veramente difficile se non impossibile hai citato chiaramente i lavori e insomma le operazioni e le missioni di un Ponte Pere questa è una sul vostro sito si scoprono chiaramente anche tutte le altre abbiamo parlato di un importante progetto a Gaza qualche tempo fa con voi molto volentieri quindi immagino che ci sarà modo di risentirci in futuro vi teniamo d'occhio con molta attenzione per adesso grazie mille davvero Martina Pignatti di questa chiacchierata buon lavoro e alla prossima